beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi salmo 1 verso 1 la via da seguire la via dell'uomo è caratterizzata da diversi momenti in ogni istante infatti siamo chiamati a mettere in pratica un giusto atteggiamento verso il mondo dio ci mette in guardia ci dice di non camminare secondo il consiglio delle persone che sono lontane dalla sua volontà questo perché chi segue i consigli degli empi cioè di coloro che vivono una vita dissoluta e immorale spesso si ritrova lungo la strada che percorrono i peccatori e quindi continua a peccare coloro che non ascoltano la parola di dio commettono ciò che è male agli occhi suoi e i momenti che conducono alla perdizione ne sono la logica conseguenza non lasciamoci dunque trascinare lontani da dio e dalla sua volontà piuttosto stiamo attenti al nostro cammino quotidiano questo per vivere piacendo al signore ascoltiamo i buoni consigli che dio è disposto a darci attraverso la bibbia la sua parola perché sono per la nostra salute spirituale e fisica seguiamo dunque la sua direttiva così saremo veramente beati proprio come è stato citato nel salmo grazie a tutti 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 grazie a tutti